Eccoci qui amici rossoneri ben ritrovati su Milanello, di nuovo non dico buongiorno, buonasera perché ormai è sera e vi saluto di nuovo qui. Oggi siamo stati insieme questa mattina con le pagelle, vi ho dato le news di mercato, ha adesso quasi 24 ore la chiusura, domani chiude, domani, ve lo ricordo, domani alle 19 in punto, saremo in diretta fino alle 20 per il countdown e la chiusura del calcio mercato per commentare insieme gli ultimi colpi, magari del Milan, magari non solo del Milan, per capire anche che cosa fanno le rivali. Vi ricordo come sempre di iscrivervi qui, mettete, attivate la campanella mi raccomando per non perdere nulla sul mondo del Milan e mettete tanti like qui sotto. Ragazzi siamo sempre più numerosi, ormai 43 mila iscritti, o meglio 43 milan. L'Atalanta ha perso, abbiamo allungato 10 punti sull'Atalanta ed è molto, molto, molto positivo. E dunque bene così ragazzi continuare, continuare perché bisogna arrivare fino in fondo. Guardiamo, riguardiamo la classifica, siamo primi, meritatamente primi. Guardiamola e riguardiamola che fa bene, fa bene guardare dove siamo. Voglio però parlare di sviluppi della vicenda Lukaku-Ibrahimović, in molti la chiamano la vicenda Ibrahimović, ma no, è la vicenda Lukaku-Ibrahimović, con ulteriori botte risposte e anche sviluppi a proposito della Procura Federale. Innanzitutto, ieri Paolo Maldini ha fatto bene a mettere i puntini sulle i, prima della partita è stato molto chiaro, ha alzato la voce, cosa che auspicavamo qui su questo canale, che auspicavate anche voi nei commenti, auspicavamo noi rossoneri. Ha detto che Ibrahimović ha difeso i compagni, che sono stati aggrediti senza motivo da Lukaku e che se si parlerà di altre sfumature, il Milan sarà pronto a difenderlo in ogni modo, contro tutto e contro tutti. Quindi bene, bene Paolo Maldini, al quale appunto stringiamo la mano idealmente. Però poi in serata ha risposto Marotta, con delle frasi che dobbiamo comunque analizzare insieme, che mi lasciano un po' così sorpreso. Le leggo testualmente così non possono essere neanche riportate male. Che cosa ha detto? Le immagini sono sotto gli occhi di tutti, Lukaku non ha aggredito nessuno. Ora, le immagini sono sotto gli occhi di tutti, il primo a essere nervoso è proprio Lukaku, che si alza dopo il fallo di Romagnoli, Romagnoli che non viene neanche munito, quindi è un fallo non da rosso da far arrabbiare così tanto, e va a muso duro contro Romagnoli. Il primo quindi a essere nervoso è Lukaku, che va a muso duro contro Romagnoli, non per portargli una tazza di te caldo, ma chiaramente per il nervosismo e l'atteggiamento quello minaccioso. Dopodiché sale Makers, che va a dargli una pacca, come dire dai chiudiamola qui tranquillo, con Nazionale, si becca una pizza sulla mano da Lukaku. Le immaginano viste tutte, Marotta, lo dico io. Chiaramente se gli dai una pizza sulla mano, uno che ti tende la mano, gli la tiri via, non è un atteggiamento così, come dire, conciliante. E poi rimane il fatto che fisicamente Ibra è rimasto lì fermo. Ibra dice relax, poi la cosa degenera, ma Ibra rimane lì fisicamente fermo, in mezzo all'aria, e lui va per aggredirlo, per arrivare corpo a corpo. Tant'è che poi arriva corpo a corpo, mettendo la faccia così, ma è lui che si sposta fisicamente. E poi, dopo, che cosa succede ancora? Che mentre Ibra va in spogliatoi, è Lukaku che viene trattenuto dagli altri, perché altrimenti andrebbe fisicamente contro Ibra. E poi, sentite cosa dice Marotta, lo conosco, in riferimento appunto a Lukaku, e posso dire che non è affatto una persona aggressiva. Ora, non sarà una persona aggressiva nella vita, ma in quel caso lo è stato, con Romagnoli, con Salve Makers, e appunto anche con Ibra Imovic in campo e all'uscita. Ma non solo, in questi giorni sui social circolano anche immagini simili a quella di un Lukaku in versione, in versione, non voglio definirla, nervoso, aggressivo, ecco, usiamo questi termini. E poi dire lo conosco non è una persona aggressiva? Che c'entra? Cioè, sbagliano anche le persone? Cioè, le persone possono cambiare in un episodio. Quante volte, lo dico anche con il sorriso, sentiamo un episodio di cronaca, purtroppo anche nera, e poi intervistano il vicino, ah no, ero un bravo ragazzo, lo conoscevo, no? Non l'avrei mai pensato. Allora, per il teorema Marotta, se è uno, un bravo ragazzo, non dovrebbe compiere errori. Eppure, lo sappiamo, che non basta essere tendenzialmente una persona per bene, un pacifista, per garantire che questo non commetterà mai degli errori, ed è il caso appunto di Lukaku. Prosegue, non è stato un bello spot per il calcio, abbiamo il dovere di educare, dare il buon esempio, anche per la violenza verbale. Assolutamente sì, certo, e spero che questo discorso valga per Ibrahimovic nel riferimento di Marotta, ma anche per Lukaku, che ha detto frasi molto, molto pesanti. Da quello che trapila, c'è il fatto che, comunque, loro non vogliano provare a forzare, ad accendere ulteriormente la polemica, perché hanno paura che Lukaku venga squalificato. Mentre tutti parlano della squalifica di Ibra, se si apre un procedimento, è Lukaku stesso a rischiare per delle parole molto, molto, molto pesanti. Sulle parole di Ibra, io l'ho scritto anche oggi su Milan News, dire vai a fare reti voodoo, non ha un'accezione razzista. È come se io dicessi a un cattolico, o meglio, se dicessero a me, vai in chiesa a pregare. Non mi sento assolutamente colpito dal razzismo, è il riferimento a una credenza, a un'abitudine che una persona ha. L'accezione negativa, secondo me, la mette chi vuole metterla da fuori. Come ho scritto nel mio editoriale su Milan News, gli occhi da fuori sono razzisti, ed è un processo alle intenzioni. Oltretutto, nel caso di Ibra, direi tv2, cui fa riferimento, sono riferito a un episodio di cronaca dei tempi inglesi, quando era all'Everton, di Lukaku. Se ne era parato su tutti i giornali. E quindi andare oltre, secondo me, capire che era l'intenzione razzista, no, non è un'intenzione discriminatoria, è il chiaro riferimento a una credenza altrui, a un'abitudine, a un credo altrui, ecco. Senza però, per forza, accezione negativa. Se a me dicono vai a pregare in chiesa, io dico sì, ci vado, non me la prendo male. Lì era stato un riferimento di cronaca, forse il riferimento che ha fatto arrabbiare Lukaku è il fatto che si parlasse della mamma. Ma Lukaku, avesse percepito un riferimento di quel tipo, sarebbe stato il primo a denunciarlo pubblicamente, con lui Conte, con lui Barella. Quindi, secondo me, non si andrà verso una squalifica, ma domani sarà il giorno, sembra decisivo, per la Procura Federale, che comunicherà, se aprirà oppure no, questo ulteriore fascicolo, questa ulteriore indagine, che potrebbe portare a dei provvedimenti. Ma qualora venissero presi dei provvedimenti, ritengo che in termini giuridici, ci sia tanto materiale per difendere Ibrahimovic, di fronte a un'accusa che, secondo me, non sta né in cielo né in terra. Che cosa ne pensate qui sotto? Scrivetemelo ragazzi, mettete tanti like, se siete dalla parte mia, e di Ibra, ritenete che comunque, non ci sia stato quel tipo di lettura, in tutto quello che avete visto, e iscrivetevi qui, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto. Vi rimando al video di oggi, sul discorso mercato, gli ultimissimi colpi possibili, e vi invito magari ad abbonarvi, se vi va qui sotto, per sostenere ulteriormente il canale, e avere dei vantaggi, domani diretta alle ore 19. Un abbraccio, forza Minan sempre, ciao!